Mettere al centro della comunità le persone inattive o prossime alla pensione, con proposte culturali e azioni di prevenzione dell'isolamento sociale e della solitudine. È questa l'attività principale di Generazione Senior, un progetto avviato qualche mese fa dalla cooperativa La Meridiana, con il sostegno del Fondo Dardanio e Zeffi Manuli, insieme con la Fondazione della Comunità Monta Brianza e la collaborazione della Fondazione Garzanti Ravasi. Davanti agli evidenti cambiamenti della struttura demografica della società, Generazione Senior ha risposto provando a creare una cultura positiva e consapevole della salute e del benessere nella longevità. Generazione Senior è un progetto che La Meridiana offre a quella che noi chiamiamo l'active aging, cioè a quella fetta di popolazione che sta entrando in pensionamento o che è già in pensione da alcuni anni o anche da qualche anno in più, ma che è estremamente attiva, che è ancora molto dinamica, che ha voglia ancora di progettare e soprattutto di mantenersi attivi. E quindi Generazione Senior nasce proprio con questa idea di offrire una serie di proposte dall'attività motoria alla prevenzione cognitiva, quella sanitaria, ma non solo, anche al proposto di tipo culturale e di solidarietà sociale, proprio per arricchire questo tempo che è assolutamente importante della vita.